Ciao a tutti sono giornalismo del cuore Italia 1, benvenuti alle ultime notizie di oggi Mediaset purtroppo deve fare i conti con un altro brutto colpo Questa volta viene colpito un nome mastodontico della rete.Una fine drammatica, una cosa che non si sarebbe aspettato realmente mai nessuno I fan sono letteralmente sotto shock per ciò che è stato appreso Il palinsesto di Mediaset, per la nuova stagione, sconvolge il grande pubblico.Una notizia che ha sconvolto non solo i telespettatori, ma anche un volto in particolare della rete Stiamo parlando di un nome che è come Remida, in grado di trasformare in oro tutto quello che passa sotto le sue mani Sono tantissimi programmi condotti e che portano il suo marchio A partire dal più famoso dating show di sempre, fino ad arrivare al talent che sforna giovani talenti che poi conquistano tutti nel nostro paese e anche fuori Per quanto riguarda il numero di ascolti, nessuno può competere con quelli che riesce a portare a casa La rete concorrente, la RAI, cerca continuamente di contrattaccare le sue produzioni e i risultati registrati modificando sempre il palinsesto Per poter raggiungere uno share maggiore Eppure l'obiettivo ad oggi non è ancora stato portato a termine, dato che Maria De Filippi continua ad essere la regina incontrastata È la fine, colpo durissimo per la conduttrice media se punto esatto, è proprio la regina della televisione ad essere al centro dell'attenzione oggi A quanto pare le cose per la moglie di Costanzo non stanno andando per il verso giusto A riferire quanto stiamo per dire è anche più donna Per Maria De Filippi ormai non c'è più nulla da fare, media setà ormai deciso Queen Mary non è solo una conduttrice, ma è anche una produttrice Difatti il suo nome è dietro a tantissimi programmi, firmati dalla casa di produzione Fascino Una delle trasmissioni di cui è produttrice è proprio Temptation Island Un programma in cui sono protagonisti copti in difficoltà, in continuo scontro a causa di eccessiva gelosia e terzi incomodi C'è un'altra trasmissione, molto simile a Temptation Island, che ha come voce narrante Simona Ventura Si tratta del programma Ultima Fermata, uno show andato in onda già per la terza puntata e che porta sempre la firma di Queen Mary Nonostante le buone aspettative, la trasmissione non sta ottenendo gli ascolti che ci si aspettava E per questo motivo, Mediaset, ha deciso che il programma non potrà continuare ad andare in onda per la prossima stagione Insomma dopo tanti anni di successi, per Maria De Filippi arriva un buco nell'acqua Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video